Eccomi qua, con un piatto dal sapore tropicale, risotai all'ananas. In una padella antiaderente vado a sciogliere un cucchiaio colmo di olio di cocco. Adesso aggiungo circa 300 g di ananas tagliato a cubetti e lascio cuocere per circa 4-5 minuti. A questo punto vado a sfumare il tutto con della salsa di soia. Un pizzico di sale. A cottura ultimata aggiungo un cucchiaino di zenzero grattugiato fresco, ma va benissimo anche dello zenzero in polvere. Infine vado ad aggiungere 200 g di risotai. Metto delle mandorle come tocco finale, però vi consiglio di provare anche con degli anacardi. Il piatto è pronto per essere condiviso in tavola e sui social. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Grazie mille e alla prossima videoricetta! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!